di Perugia Matteo Bertini che ci sta raggiungendo in questo momento Bertini che tra l'altro oggi ha ricevuto ufficialmente dal Consiglio federale l'investitura, una cosa che già si sapeva comunque sarà ancora il secondo di Mazzanti con la nazionale appunto dicevamo scontato però è bello vederlo nero su bianco ma non è mai scontato sono contento di proseguire la nostra avventura insieme con Davide, con le ragazze ci aspetto una stagione lunga e tosta con obiettivi importanti quindi adesso pensiamo a Perugia poi tra un po' ci rimettiamo l'azzurro Ecco arrivate da una bella vittoria, faticata ma comunque importantissima e quindi avete fatto una settimana immagino un po' più rilassata, come vi presentate? Ma sì, alla fine ci stiamo allenando bene come ti ho detto anche la scorsa settimana stiamo provando questo modulo con i tre scherciatori che ci sta dando dei buoni risultati dobbiamo lavorare un po' più sulla continuità è vero che il risultato ci ha dato un pochino più di morale e di tranquillità speriamo stasera di ripetere un po' la prestazione di sabato scorso Tre schiacciatrici al momento però lo Pozza in arrivo Speriamo di sì, credo che oggi dovrebbe essere la giornata giusta per chiudere per chiudere, l'aspettiamo, c'è la pausa quindi avremo modo anche di cercare di buttarle dentro in squadra con molta calma È quella che arriva dall'est di cui si parla? Credo di sì, che la conoscete già un pochino magari Magari ha già giocato qui l'anno scorso Ok, dai così Va bene, poi facciamo il nome dopo Matteo, vediamo la partita di oggi, Busto Hanno ricevuto una sconfitta però in casa di Conegliano un buon primo set per loro, una squadra molto fisica una buona fase break Dove insisterete? Quali sono un po' le loro debolezze? La cosa principale sicuramente è tenere un po' la palla staccata da rete perché hanno opzioni in attacco molto importanti quindi cercheremo un pochino con la battuta di aiutarci sul nostro lavoro di muro difesa a quello che ho chiesto alle ragazze è poi di tenere il nostro cambio palla alto cercare quindi di essere un po' più aggressivi sul nostro cambio palla credo che siano le due chiavi principali della partita di oggi e della nostra prestazione poi il nostro entusiasmo dobbiamo giocare determinate dobbiamo giocare con tanta passione con tanta voglia di fare risultato e di cercare di prendere una palla in più in difesa per cercare di mettere il più in difficoltà possibile Voi al contempo invece avete bisogno di una buona ricezione perché il vostro gioco dal centro è importante Sì, sì, sì è chiaro che quando giochi queste partite qui cercare di sfruttare tutte le tue armi è la cosa più importante la ricezione da una mano non è così determinante però comunque se ci dà una grossa mano e col modulo con i tre schiacciatori abbiamo anche tante linee di ricezione differenti da poter girare in base anche al battitore avversario Matteo, una cosa così guardando l'assenza di Bartolini ha avuto un problema in settimana ricadendo da un salto una piccola distorsione al ginocchio speriamo di recuperarla il più presto possibile sono state già fatte risonanze tutto, sì, niente di rotto niente di preoccupante credo che in 15-20 giorni di ripoterla avere con noi allora in bocca al lupo li rifacciamo anche noi da qua assolutamente sì, perché ce lo merita grazie Matteo ciao Matteo, in bocca al lupo eh sì, ce li merita tra l'altro è entrata molto bene nella partita contro Macerata quindi è un cambio che viene a mancare stasera importante per Perugia sì, aveva fatto benissimo sia nella fase del muro che quella della difesa scusami, dell'attacco quindi insomma un'assenza importante Marco Musso, ci raggiungi allora la sconfitta con Conegliano ovviamente sta nell'ordine delle cose però poi avete giocato anche bene lo so, ahimè non è molto d'accordo Marco no, no, giustamente perché bisogna sempre puntare al meglio però come dire, ci sta, no? stasera un po' meno ma sì, la sconfitta con Conegliano è nell'ordine delle cose perché ci ha abituati al fatto che loro quando vanno in difficoltà tirano sempre fuori qualcosa in più e così hanno fatto anche domenica scorsa perché io sono dell'idea che noi la partita ce la siamo giocata non dico a pari livello però ce la siamo giocata con tutto quello che avevamo per metterle in difficoltà loro ne sono usciti da grande squadra quale sono quindi onore al Conegliano perché non era facile uscirne l'hanno fatto con grande qualità detto questo stasera è una partita dove noi dobbiamo metterci subito sopra abbiamo quel dovere lì Perugia è una squadra che sta comunque tenendo un buon livello un buon ritmo la settimana scorsa a Macerata hanno fatto una partita intensa sono andati avanti 2 a 0 poi sono andati al tie break e l'hanno vinto con qualità quindi sappiamo che sarà una partita impegnativa come tutte partita molto diversa da quella dell'andata quando voi eravate in serie difficoltà tra infortuni problemi di vario tipo adesso è cambiato sono cambiate tante cose soprattutto da voi sì noi abbiamo cambiato molto siamo cresciuti tanto dobbiamo avere continuità in quello che facciamo quindi tenere la testa sul nostro campo è sempre molto importante al di là di chi c'è dall'altra parte della rete anche loro sono cambiati molto perché hanno cambiato l'intera diagonale quindi è una squadra molto diversa rispetto a quella dell'andata è una partita un po' nuova è come se fosse la prima gara del girone d'andata diciamo così uscite anche da un bel turno di Coppa dove hai potuto anche fare un po' di rotazione per giocare qualcuno per riposare qualche ragazza adesso però il livello si alza un po' contro l'Istanbul di abbondanza sì abbiamo passato il turno di Coppa con due partite nette era importante per la nostra fiducia sempre al di là di chi c'è dall'altra parte della rete ora il livello della Coppa si alza perché la Coppa Cev è un torneo con degli avversari importanti quindi questo Turkish di Istanbul è una squadra importante sta facendo bene anche nel campionato turco che è un campionato molto complesso quindi è bene più sono impegnative le partite più vuol dire che stai salendo di livello è per noi importantissimo Marco ritorniamo invece alla partita di oggi Gardini è stata MVP del match scorso tanta qualità anche alla seconda linea ecco qualche fallo in ricezione ma in battuta forse quella da tenere più sotto controllo sì io penso che Perugia abbia un livello di battuta alto in generale non solo Gardini perché Guerra ha un'ottima battuta la palleggiatrice ha un'ottima battuta tattica l'Azic ha un'ottima battuta loro ottengono molto dalla fase break basandosi sulla battuta quindi è importante che noi abbiamo la nostra continuità di cambio palla e su quello fino adesso ne abbiamo avuto abbastanza è quello che forse ci ha dato un pochettino più di ritmo detto questo Perugia è una squadra che poi oltre a quello ha anche secondo me della grande qualità sugli attaccanti su tutta linea l'attacco perché anche i centrali sanno fare bene ognuna nelle sue cose quindi è una partita complessa è una partita intensa dobbiamo trasformarla in quello dobbiamo essere pronti in muro di pesa anche noi al tempo stesso dovrete battere bene perché loro al centro come dicevamo anche con Bertini hanno dei punti di forza loro hanno dei punti di forza hanno dei bei primi tempi quindi sì sì poi magari sulla ricezione pagano qualcosa ma in questo momento anche noi stiamo pagando in quella situazione quindi dobbiamo avere continuità in battuta dobbiamo avere aggressività in battuta e dobbiamo essere pronti al fatto che loro attaccheranno forte e ogni volta avranno la palla in mano quindi bene sarà una partita divertente ti volevo chiedere dei miglioramenti invece di Omorui nella fase della ricezione perché magari è quello che le manca di più anche in ottica perché no azzurra sì ma Lovets sta crescendo tantissimo si sta allenando tantissimo è un giocatore che ha capito molto bene quello che serve per crescere tanto e lo sta facendo con continuità anche lei quindi è un giocatore che ha bisogno di tempo è un giocatore che ha bisogno di campo è un giocatore che su cui la pressione va messa ma va messa con le giuste dosi e con la giusta quantità e secondo me potrà crescere poi la chiave azzurra se la deve guadagnare quindi quello non è una cosa su cui posso essere io l'ago della bilancia lo è lei da sola quindi le auguro sicuramente di poter puntare a quello ma naturalmente la potrei aiutare molto farò di tutto per aiutarla assolutamente lei lo sa ciao Marco ragazzi buona partita grazie buona partita